Cari telespettatori, buonasera e bentornati in diretta. Siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino. Allora vado subito a dare il benvenuto all'ospite di questa sera, il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Bentornato nei nostri studi. Buonasera a voi, grazie e buonasera a tutti i telespettatori. I numeri di telefono per intervenire in diretta sono sempre gli stessi 0721 86 14 33 se volete parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250 che a questo numero di cellulare potete inviarci sms ma anche messaggi tramite l'applicazione whatsapp. Lo avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale, il sindaco e il presidente Francesco Acquaroli ha firmato un'ordinanza con la quale si mettono 5 comuni in zona rossa. Adesso anche con l'aiuto della grafica ve li ricordiamo brevemente. Quattro sono in provincia di Pesero Urbino, a Qualagna, Montelabate, Tavuglia e Vallefoglia e poi in provincia di Ancona, Cerreto Desi. Abbiamo detto più volte anche il nostro direttore nel corso della rassegna stampa che in realtà la regione interamente complessivamente rimane in fascia arancione ma per decreto perché meno male i numeri sono buoni nel senso che la curva epidemiologica è in calo quindi contagi, ricoveri e quant'altro. In particolare a Mondolfo qual è la situazione? A Mondolfo abbiamo avuto un calo dei contagi quindi adesso all'incirca sono 60 in tutto il territorio comunale e speriamo che questo andamento continui. Oggi abbiamo avuto con l'assessore Saltamartini e tutti i comuni della nostra provincia abbiamo fatto il punto. In realtà quei quattro comuni della provincia di Pesero Urbino saranno in zona arancione rafforzata per i prossimi quattro giorni quindi dal 21 fino al 25 per poi vedere insomma come va il tasso di incidenza in quei comuni durante la settimana. Esatto, ricordiamo anche che le attività rimarranno aperte però si vogliono limitare a spostamenti quindi soltanto per comprovati motivi di salute, necessità e lavoro e quindi è necessario comunque avere l'autocertificazione. Ma qual era l'umore dei sindaci oggi? L'umore non erano molto convinti di questa scelta, in diversi chiedevano di attendere, di vedere come andava questa settimana e poi decidere per la settimana successiva. Anche perché ormai a livello nazionale si sta parlando di aperture e quindi di aprire dopo il 26, diverse attività riusciranno ad aprire anche alla sera e quindi aggiungere un'ulteriore misura soprattutto sugli spostamenti che abbiamo visto poi che ha funzionato poco perché poi è difficile da verificare questi spostamenti per motivi di salute, lavoro e necessità e quindi si chiedeva insomma di attendere e di non aggiungere un ulteriore provvedimento. Comunque ecco come sindaci è nostro dovere dare la nostra disponibilità alle istituzioni e cercare di fare squadra per ridurre il più possibile i contagi. A proposito di riaperture avete avuto modo di confrontarvi anche con gli imprenditori e le associazioni di categoria? È tornata un po' di speranza, un po' di ottimismo? Ci siamo confrontati dopo diversi mesi di sofferenza queste aperture del governo dal 26 aprile in poi sicuramente da una boccata di ossigeno alle attività anche se sono ancora misure abbastanza restrittive e quindi non siamo tornati alla normalità e quindi l'invito che facciamo ai cittadini è quello del rispetto delle regole però sicuramente queste aperture danno un po' più di respiro a chi investe sul territorio e chi ha un'attività. Prima di cominciare a leggere i messaggi dei nostri telespettatori vorrei aprire con lei una finestra un attimo sui tamponi vaccini perché anche qua abbiamo qualcosa da dire. Abbiamo delle foto che si riferiscono appunto ai tamponi che sono stati eseguiti nel comune di Mondolfo anche qui avevate ottenuto un bel risultato. Sì qui è al bocciodromo comunale, alla sala ciria che abbiamo organizzato assieme ad Asur Regione a gennaio lo screening di massa dove hanno partecipato quasi 5.000 persone dove l'organizzazione è stata ottimale con tanti volontari della protezione civile e della Croce Rossa che hanno partecipato e adesso noi da diversi mesi abbiamo richiesto ad Asur di attivare un punto di vaccinazione della popolazione anche nel comune di Mondolfo quindi alla sala ciriachi. In diversi comuni hanno chiesto di aumentare i punti vaccinali della popolazione quindi questi hub minori di prossimità anche per fare in modo che le persone si spostino almeno possibile facciano meno chilometri possibili per vaccinarsi soprattutto le persone più anziane al momento però l'Asur ha risposto con un comunicato scritto a tutti i sindaci che non hanno risorse umane da dare per questi hub minori ma anzi la volontà è quella di rafforzare i punti vaccinali della popolazione che sono quello di Pesero, di Urbino e di Fano che adesso non stanno andando a pieno regime quindi la volontà è quella di farli lavorare a pieno regime noi abbiamo dato la nostra disponibilità, l'indicazione dell'Asur è quella che ogni comune si deve organizzare da solo noi dal nostro punto di vista abbiamo già contattato i medici di base e coordinati l'equipe territoriale coordinata dal dottor Fioravanti che hanno dato la loro disponibilità, la Croce Rossa l'abbiamo contattata e anche la protezione civile soprattutto per la parte amministrativa e per la parte logistica anche loro hanno dato la loro disponibilità per quanto riguarda il personale infermieristico che è l'altra figura molto importante nel punto di vaccinazione si fa difficoltà a trovare queste figure e quindi noi stiamo cercando infermieri volontari poi ci sono tanti altri aspetti che devono essere sviscerati quindi l'Asur ancora non ci ha dato delle linee guida precise su questi hub minori, su qual è la logistica, sulla copertura assicurativa per quanto riguarda gli infermieri volontari sulle categorie da somministrare quindi anche i medici di base hanno chiesto un po' di chiarezza però avete iniziato a raccogliere le adesioni comunque? sì abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni però siamo in una fase ancora... un po' precoce, si attendono delle precisazioni in merito sempre in tema sanitario buonasera sindaco, grazie per l'impegno di tutta la giunta casa della salute Bartolini, presidio sanitario sempre più importante come emerge anche da questo tempo di pandemia dunque nuovi ambulatori chiedono per i medici annunciati da tempo dall'Asur centro di urno per Alzheimer e unità raccolta di sangue dell'Avis a che punto siamo? allora per quanto riguarda i nuovi ambulatori l'Asur è un po' in ritardo anche se ci ha assicurato che ha inserito appunto nel piano investimenti le risorse per i nuovi ambulatori quindi dovrebbero andare avanti nei prossimi mesi i lavori per quanto riguarda invece il centro di urno per Alzheimer e l'unità di raccolta Avis noi abbiamo incaricato uno studio tecnico per la redazione di questi due importanti progetti uno che è quello dell'unità di raccolta sangue Avis che abbiamo redatto in collaborazione con l'Avis comunale di Mondolfo e Marotta abbiamo adesso il progetto definitivo mentre abbiamo uno studio di fattibilità per quanto riguarda il centro di urno per Alzheimer l'idea della nostra amministrazione comunale è quella di progettare come abbiamo fatto in questi cinque anni per partecipare ai bandi e ottenere i finanziamenti anche perché dal punto di vista sul settore della sanità e del sociale ci saranno delle risorse importanti e ingenti nei prossimi anni e vogliamo essere pronti per migliorare i servizi sociosanitari del nostro territorio Allora abbiamo tanti argomenti da affrontare dal lungomare all'illuminazione, scuole e quant'altro però cominciamo un attimino con i messaggi anzi continuiamo il sottopasso apre per quest'estate? forse si riferisce a quello all'altezza sì, quello del sottopasso ciclopedonale all'altezza del passaggio a livello e siamo in costante contatto con la ditta che sta realizzando i lavori e le RFI e ci hanno assicurato che i lavori procederanno spediti e ci sarà quindi almeno il passaggio in sicurezza per i turisti e i cittadini per il mese di giugno e questa è una notizia molto importante per tutti i cittadini di Marotta Centro perché insomma questa è un'opera che deve essere conclusa il prima possibile per ripristinare un collegamento ciclopedonale fondamentale per la popolazione a proposito di sottopassi dobbiamo parlare anche di altri perché avete installato delle telecamere e quindi insomma ci state lavorando? sì, abbiamo fatto diversi interventi per quanto riguarda la sicurezza assieme al vice sindaco e al sessore della sicurezza Carlo Diotallevi abbiamo installato le telecamere su tutti i sottopassi carrabili sia per controllare eventuali allagamenti quindi per la viabilità ma anche per quanto riguarda la sicurezza e l'ultimo intervento è stato al sottopasso delle Rane quindi a Marotta Nord e adesso stiamo facendo un intervento importante di riduzione del rischio allagamenti del sottopasso Togliatti quindi sulla strada statale stiamo realizzando una nuova condotta per le acque meteoriche per convogliarle nel fosso che poi scarica a mare e questo è molto importante per raccogliere appunto le acque che dalla statale entravano appunto nel sottopasso Togliatti quindi piccoli ma importanti interventi nel tempo per migliorare la viabilità ai nostri sottopassi volevo fare i complimenti al sindaco Barbieri per il lavoro che sta facendo anche se non sono del suo comune sta facendo più cose lui in cinque anni che le altre giunte in venti sono Paolo Di Calcinelli grazie in tanti ci chiedono informazioni sulle asfaltature mentre lei parlava mi sono appuntata alcune vie richiedono informazioni per via Valle del Pozzo, via Passa di Rango, via Mengaccio, via delle Regioni, via delle Provincie e via Le della Repubblica avete già impostato insomma il prossimo piano delle asfaltature? sì, noi ogni anno mettiamo delle risorse a bilancio proprio per il rifacimento del manto stradale adesso ripartiamo fine aprile, inizi maggio ripartiamo con il piano asfaltature quindi quello del 2021 nel 2020 abbiamo asfaltato via Molino Vecchio, via Cardarelli il parcheggio di Viale delle Regioni che erano interventi fondamentali per la cittadinanza ora proseguiamo proseguiamo con via Andersen proseguiamo con via Le Grotte a Mondolfo via Degli Ulivi via Monte Ciappellano via Buonacesta dove faremo un intervento con Aset per quanto riguarda la rete idrica e poi verrà asfaltata e poi anche a Centocroci asfalteremo via Vivaldi via Paganini via Veterana che sono delle vie che negli ultimi mesi sono state oggetto di diversi interventi di Aset per quanto riguarda la rete idrica e la nuova affognatura interverrà Enel nei prossimi giorni sono stati realizzati i lavori per la fibra ottica e quindi poi assieme a queste società private che sono intervenute in collaborazione con loro asfalteremo quelle tre vie di Centocroci quindi ci saranno diversi interventi poi vorremmo intervenire su altre vie via Ancone, via Perugia compatibilmente appunto con le risorse a bilancio Viale della Repubblica è stata citata prima ha subito è stata oggetto di lavori della fibra ottica e quindi ecco non possiamo asfaltare adesso quindi ci sono dei lavori anche è un cantiere a cielo aperto su tutta la città proprio per la realizzazione della fibra ottica su tutto il territorio comunale e quindi lì poi è la ditta ci sono anche dei tempi tecnici insomma da rispettare sì, di Open Fiber che dovrà realizzare appunto i ripristini chiedono se è possibile far tagliare il cannetto in piazzale 8 Marzo perché non è un bel vedere ma occupa interamente anche il fossato poi Elena ci scrive nel giardino del Residence la fontanella che è di competenza del comune precisa vorrei chiedere se è possibile chiudere la vasca in cemento che è pericolosa per i bambini che giocano e che potrebbero anche caderci dentro e farsi male e chiede anche di poter mettere dei giochi prendiamo la segnalazione anche se mi sembra che la gestione sia condominiale quindi poi sarà da sentire anche insomma il condominio e capire ecco l'esigenza della maggior parte dei cittadini che lì ci abitano a proposito di giochi visto che c'è stato un concorso di idee voi dall'inizio avete deciso di ridurvi gli stipendi e con l'indennità realizzare un po' di cose sempre a favore della comunità questo è il terzo intervento che fate con il taglio il quarto intervento sì abbiamo realizzato il restauro del monumento nel centro storico di Mondolfo poi abbiamo realizzato le attrezzature sportive sul lungomare abbiamo acquistato delle lavagne interattive multimediali computer per pc portatili per le scuole e poi adesso è l'ultimo concorso di idee abbiamo chiesto ai cittadini che cosa fare con queste risorse e ci hanno chiesto in molti di sistemare i giardini pubblici e quindi abbiamo acquistato nuovi giochi li stiamo installando su tutto il territorio comunale questo è un nuovo gioco sul giardino di Piano Marina in via Raffaello ma ne abbiamo installati tanti altri i giardini della Rocca Mondolfo piuttosto che un nuovo giardino pubblico con giochi in via Beato Angelico quindi diciamo degli interventi fondamentali per i bambini del territorio un porto complessivo superiore a 21.000 euro quindi una bella città 21.400 euro più sono quelle le risorse delle indennità di sindaco e assessori e poi si aggiungono delle risorse per quanto riguarda la manutenzione che abbiamo messo sempre nel decoro urbano quando verrà collegata la pista ciclabile Marotta-Cesano le chiedono allora penso che si parli del ponte ciclopedonale sul Cesano abbiamo avuto un incontro qualche settimana fa con la regione Marche e il comune di Senigallia e anche qui dovremmo avere eccole qua delle foto ecco questo il bellissimo rendering di un'infrastruttura che sarà fondamentale per le due province sia ad Ancona che la provincia di Peso Urbino non soltanto per il comune di Mondolfo e di Senigallia un collegamento fondamentale e da poco è stato dato l'incarico dalla regione Marche allo studio per redigere il progetto definitivo ed esecutivo quindi entro la fine dell'anno avremo il progetto esecutivo e poi si partirà con la gara per individuare la ditta ed iniziare finalmente i lavori di quest'opera fondamentale per tutti noi è possibile completare la pista ciclabile da Via Vecchia Osteria a Viale delle Regioni? Da Via Vecchia Osteria a Viale delle Regioni penso che faccia riferimento alla messa in sicurezza di Viale delle Province è fondamentale che la futura amministrazione comunale si occupi di continuare a mettere in sicurezza i percorsi ciclopedonali su tutto il territorio comunale sicuramente uno degli obiettivi del futuro è quello di creare dei percorsi in sicurezza sia su Viale delle Province ma anche su Viale della Repubblica lì c'è da spostare dei pali delle alberature da fare un po' di spazio per creare dei percorsi ciclopedonali veri e propri però dovremo poi portare avanti il progetto Abbiamo una telefonata per lei Sindaco sentiamo chi c'è in linea buonasera la ripristiniamo allora andiamo avanti con un messaggio Bastione Sant'Anna e scuola mediafermi quando finiranno i lavori Sindaco? Allora Bastione Sant'Anna riprendono a breve perché siamo riusciti ad ottenere altri circa 60.000 euro con la quale realizzeremo dei nuovi impianti per rendere appunto gli spazi interni usufruibili e apportare alcune migliorie e penso che nel giro di un mese barra due andremo ad inaugurare questo questo luogo importante e storico per per il nostro borgo per quanto riguarda la scuola mediafermi come sapete come sanno i cittadini è divisa in tre corpi A, B e C il corpo C lo concludiamo nel mese di maggio che è la palestra il corpo A lo concluderemo durante l'estate o al massimo a settembre e intanto si sta portando avanti la progettazione del corpo B andremo a gara quindi ad ottobre insomma negli ultimi mesi dell'anno inizieremo quindi i lavori per l'ultima l'ultimo corpo che è il corpo B per poi andare nel prossimo anno con appunto l'apertura e il ritorno a scuola dei ragazzi e lo spostamento dei ragazzi dalla scuola elementare Moretti alla scuola mediafermi come tempistiche poi sapete che la burocrazia allunga anche di molto i tempi però pensiamo che la conclusione dei lavori sia verso gennaio del del duemila ventitré e quindi poi sarà da decidere con l'istituto comprensivo fermi se già da metà anno spostare i ragazzi delle medie eppure attendere la conclusione dell'anno scolastico però ecco intanto dobbiamo arrivare a quell'obiettivo abbiamo ripristinato la telefonata buonasera buonasera eccoci qua il sindaco è pronto l'ascolta buonasera 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 signor sindaco chiamo da San Lorenzo in campo buonasera innanzitutto auguri per quando gli è arrivato in casa quindi questa figlia che gli è arrivata soprattutto dalla stampa quindi auguri vivissimi innanzitutto e scusi se la interrompo ma dicevamo prima di andare in onda che proprio ieri c'è stato il battesimo quindi una festa ridotta però sempre sempre meravigliosa abbiamo fatto la funzione religiosa ecco questo non lo sapevo auguri di nuovo grazie allora innanzitutto voglio sapere la sua anche prendendo spunto da quello che è comparso oggi sulla stampa riguardo all'ospedale il costituto ospedale unico Pesaro Fano che sembra che la regione abbia preso una decisione cioè un'idea di quella di spostare questa prima idea di muraglia spostarla in un'altra parte quindi a Pesaro Nord case bruciate diciamo lo dice la stampa e praticamente secondo me la regione sta facendo bene nel non accettare non andare avanti con quella scelta secondo me molto infelice di muraglia perché è una scelta che dal punto di vista geologico non si presta bene e a noi poi cittadini dell'entroterra a Pesarese sicuramente sicuramente non andava molto bene perché era distante la scelta ideale è sempre quella di Fano Chiaruccia Fano Snapprogetti lì diciamo Fano dove c'è l'ex social quindi volevo sapere qual era il suo intendimento e in quei momenti qual è stato il suo modus operandi del tempo quando è stata presa questa decisione anche per contrastare lo strapotere dei Pesaresi questo era il discorso secondo invece sia una mia richiesta come cittadino di valle secondo me noi che gravitiamo molto su Marotta chiederemo una integrazione e un potenziamento di quelli che sono i servizi collegamenti diciamo da Marotta parlo di collegamenti automobilisti quindi su bus in modo che potesse essere veramente migliorare questo collegamento che da Marotta risale tutta la valle passa su Pergola per poi transitare stato ferrato Fabriano e prendere il freno per Roma questo in previsione della riappertura della tratta ferroviaria Pergola Fabriano sarebbe una grande cosa anche per Marotta avere questo collegamento molto veloce Fabriano Marotta sono appena 70 km non è che si casca nel mondo invece di evitare tutto il giro Marotta Falconara Falconara Fabriano ben più lungo e ben più costoso dal punto di vista del tempo ne tenga conto il sindaco di questa intuizione anche perché noi della valle Marotta lo vediamo l'abbiamo sempre visto è stato il nostro mare quindi il casello di Marotta a cavallo dell'85 86 mi ha visto anche tra quelli che a suo tempo l'avevano difeso perché faceva un po' di attività politica in zona quindi il casello non c'era e abbiamo visto l'abbiamo sempre difeso al suo tempo c'era sindaca una certa Carnaroli non so se la Vrandessa forse non era neanche nata in quel periodo non lo so però gli avranno ricordato che c'era Carnaroli quindi noi come cittadini l'abbiamo difeso a spada a tratta l'apertura del casello e abbiamo visto i benefici che ha portato per la vostra fascia per i vostri cittadini perché ha aperto Marotta al mondo e adesso quindi questi benefici ottenuti quella volta col casello il potenziamento dello stesso spazio ferroviario di Marotta insomma abbiamo capito comunque il concetto la ringraziamo e sindaco farà come questi cittadini vi batterete per intanto il diritto alla salute sì intanto allora ringrazio il cittadino che ha chiamato e ha sollevato dei temi che sono centrali per tutta la vallata del Cesano e di cui parliamo costantemente con tutti i sindaci della vallata per quanto riguarda l'ospedale noi abbiamo sempre sostenuto io ho fatto anche diversi interventi sulla stampa per il sistema policentrico e a difesa e potenziamento dell'ospedale Santa Croce quindi questa era la nostra idea e quella è rimasta sicuramente la regione Marche ha un'idea di sanità diversa rispetto all'amministrazione regionale precedente e adesso dalle parole lo dovrebbe dimostrare nei prossimi anni ancora non ha avuto tempo ma lo dovrà dimostrare nei prossimi anni con i fatti forse il luogo più corretto per parlare di sanità è la conferenza di aria vasta quindi dei sindaci di aria vasta e forse da troppo tempo che non viene più convocata quindi sarebbe importante rivederci tutti assieme con la nuova amministrazione regionale e ragionare per il futuro sanitario del nostro territorio provinciale e per il bene dei nostri cittadini per quanto riguarda invece le opere le infrastrutture di cui parlava il signore sicuramente ci sono due infrastrutture che secondo me sono molto importanti per la vallata del cesano una è l'intervalliva di cui si parla da tanto tempo che collega le due vallate del cesano e del metauro e l'altra è il collegamento il prolungamento della complanare che da Marotta raggiunge Tombaccia e quello è un altro intervento sarebbe un intervento molto molto importante di cui abbiamo discusso anche con il comitato di Fano Sud perché toglierebbe molto traffico alla strada statale 16 rendendola molto più sicura sarebbe un collegamento molto importante per il comune di Mondolfo ma anche per i cittadini di Ponte Sasso e Torrette e chi raggiunge la Marotta dalla vallata del cesano che è stata un po' negli anni di dimenticata quello sì dal punto di vista delle infrastrutture e voglio ricordare una nota positiva che è quella che stiamo portando avanti assieme alla regione Marche che è la la ciclovia del cesano insieme a tutti i sindaci della vallata del cesano stiamo portando avanti questo progetto in cui i lavori inizieranno entro l'anno e quindi di questa pista ciclabile che collegherà appunto Marotta alla Croce del Catre quindi il collegamento da monte a mare che rappresenta anche un collegamento turistico e culturale che può rilanciare la nostra vallata del cesano insomma di temi da trattare ce ne sono tanti e cercheremo di sollecitare appunto la regione nel portale avanti assieme è in programma la pista ciclopedonale San Gervasio? la pista ciclopedonale Centocroci San Gervasio è addirittura d'arrivo all'inizio dei lavori dopo l'estate inizieremo questi lavori una pista ciclopedonale con illuminazione a led che permetterà appunto a tutti i cittadini che abitano a Ponterio e in via Beato Angelico di raggiungere in sicurezza Centocroci quindi continua quella rete di percorsi ciclopedonali che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale da Centocroci a San Sebastiano ora da Centocroci a San Gervasio la pista ciclopedonale di Piano Marina fino a Marotta Centro la riqualificazione della ciclabile sul lungomare insomma continuiamo a mettere in sicurezza il territorio e renderlo ancora più più appetibile a chi viene ad abitarci parliamo di nuovi parcheggi abbiamo letto ci scrivono la delibera di giunta del cambio di PRG per quanto riguarda il campo di via Toscanini che verrà trasformato in parcheggio a quando l'inizio dei lavori? allora quella è un'opera di urbanizzazione che verrà realizzata dal privato quando si attiverà con il suo comparto e quindi abbiamo previsto diverse aree nel territorio intorno al centro storico una è quella di via Toscanini un'altra in via Vandali con l'obiettivo appunto di ampliare il numero dei parcheggi e anche di riqualificare il centro storico l'obiettivo poi in futuro è quello della riqualificazione e il rifacimento della piazza del comune che necessita di intervento ed è una delle piazze più visitate dai nostri turisti da chi viene a visitare Mondolfo e Marotta Barbieri grazie e lo scrive Jacopo da Marotta poi chiedono anche se dà una risposta al canneto di piazzale 8 marzo ma in questo caso un sindaco credo possa prenderne atto verificare mi sono segnato la segnalazione volevo un'informazione perché prima avete fatto vedere che i contagioni nella provincia di Pesero sono solo 4 perché proprio il servizio sanità della regione Marche ci ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore anche a causa di un calo che c'è sempre in fine settimana dei tamponi effettuati i contagi nella provincia di Pesero Rubino sono soltanto 4 e ancora nuovi parcheggi per il centro storico di Mondolfo in via Vandali ci sono novità? sì per via Vandali abbiamo messo a bilancio le risorse per acquistare il terreno che è di proprietà privata e poi per procedere con la redazione del progetto del parcheggio buonasera per i parcheggi tolti in via della Luna per fare la pista ciclopedonale si può fare qualcosa che le macchine bisogna parcheggiarle nel campo vicino? sì in realtà su via della Luna abbiamo fatto un intervento che è stato importante per la realizzazione della pista ciclabile di questo collegamento sono stati tolti un po' di posti auto però in realtà ci sono delle vie interne come ad esempio via Giove in cui c'è un piazzale con diversi parcheggi che non viene utilizzato ed è a pochi metri da via della Luna quindi si tratta di cambiare un po' le abitudini ma neanche più di tanto perché i parcheggi lì nella zona ci sono sul terreno abbiamo fatto un intervento come richiesto dai privati per dare la possibilità anche ad alcuni residenti di parcheggiare tra poco sindaco parleremo del lungomare anche della sistemazione idraulica insomma abbiamo ancora diversi argomenti da trattare ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco Bentornati in diretta questa sera stiamo facendo il punto con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri vado subito a leggerle un messaggio di un nostro telespettatore buonasera sindaco cosa può dirci riguardo all'avanzamento dei lavori di Open Fiber nella zona Piano Marina e via Gagarin Piano Marina diciamo hanno fatto già diversi interventi Open Fiber sta proseguendo su tutto il territorio comunale a Mondolfo ha già completato gli interventi che doveva realizzare ora si sta concentrando su Marotta Centro e Piano Marina e quindi stanno proseguendo rapidamente il prossimo passo è la realizzazione del PCN in via Salvemini e quindi diciamo che vanno avanti e speriamo che finiscano il prima possibile C'è in progetto un'area camper a Mondolfo? Area camper a Mondolfo in questo momento non c'è un progetto più su ad esempio vicino in un terreno vicino a via Sterpettine ecco sono delle piccole aree però Buonasera sono Di Marotta e vorrei sapere quando aggiusterete il lungomare di Marotta Nord perché ci sono fioriere muretti e panchine in stato di degrado la faccio rispondere a questa richiesta della telespettatrice o telespettatore poi parliamo di tutto il lungomare perché lì ci sono stati tanti interventi sì sul lungomare di Marotta Nord ci sono alcune sistemazioni da fare in alcuni muretti abbiamo ricevuto la segnalazione l'abbiamo rigirata all'ufficio tecnico e quindi interverranno nelle prossime settimane prima dell'inizio della stagione estiva ci stiamo preparando al meglio per rendere il nostro lungomare sempre più bello e accogliente con diversi interventi non soltanto dal punto di vista interventi di manutenzione e riqualificazioni ma anche dal punto di vista del piano spiaggia per gli interventi di manutenzione ne abbiamo fatti diversi abbiamo sistemato alcuni marciapiedi adesso a breve termineremo anche i lavori di riqualificazione del molo di Marotta e poi in consiglio comunale nell'ultimo consiglio comunale abbiamo avviato l'iter per il nuovo piano spiaggia e l'ultimo ora è del 2007 quindi insomma tanti anni che non veniva aggiornato sì un piano che necessitava di modifiche modifiche richieste da tanti operatori del settore e quindi è un nuovo piano che sicuramente migliorerà la vivibilità del nostro lungomare è un piano che uniformerà la parte di Marotta Nord che era legata al piano spiaggia del comune di Fano con tutto il resto del litorale sarà previsto l'ampliamento dei chioschi quindi si darà la possibilità fino a 60 metri quadrati di ampliare i chioschi sul mare per migliorare appunto i servizi offerti le porzioni di spiaggia libera che sono la particolarità del nostro territorio rimarranno identiche rimarranno le stesse quindi non vengono toccate verrà individuata una nuova area delle nuove zone un'area che è la Molo Arena quindi per intrattenimenti eventi speciali con l'amministrazione comunale quando si poteva abbiamo realizzato diversi eventi appunto nella zona vicino al Molo poi viene individuata una zona per un nuovo museo del mare viene individuata un'area per il presidio della Croce Rossa che dovrà essere ampliato per offrire maggiori servizi sul nostro litorale durante la stagione estiva viene individuata una zona pet friendly quindi per gli amici degli animali e poi una cosa molto importante che questo piano spiaggia fa rientrare anche tutta la zona del lungomare a sud dopo le vele che è una zona abbandonata che era legata ad un piano che è il piano Battimelli degli anni 80 quindi viene stralciata da quel piano rientra nel piano spiaggia seguirà il piano di gestione integrato della zona costiera ma questo è un primo passo per permettere ai privati che sono proprietari di quei di quei terreni di poter intraprendere interventi migliorativi e quindi diciamo che sono è un piano spiaggia che ha soddisfatto tanti anche in consiglio comunale non ci sono stati voti contrari alcune forze politiche di minoranza hanno votato favorevolmente altre si sono astenute gli operatori insomma sono tutti molto contenti adesso vedremo ci saranno altri passaggi in consiglio comunale altri due però insomma ecco abbiamo avviato un iter che era fondamentale avviare ed era anche uno dei nostri punti del programma andiamo avanti via Ferrari via Ugobetti una delle opere urbanistiche più interessanti degli ultimi anni a Marotta Nord però le aiuole e le zone verdi si stanno degradando e progressivamente morendo ci dicono con un piccolo intervento si potrebbero risistemare e migliorare anche di molto l'estetica il decoro del verde pubblico perché non intervenire ripristinando ad esempio anche l'impianto automatico di regazione si prendiamo la segnalazione la giriamo all'ufficio tecnico e manutentivo per cercare di migliorare la situazione vorrei chiedere al sindaco Barbieri se si può fare qualcosa per risolvere l'annosa situazione a Centocroci dove tutte le volte che deve passare un'imbarcazione dal cantiere lungo la strada percolese viene staccata la linea elettrica e quindi tutta la zona rimane a lungo senza elettricità si sono dei casi particolari delle situazioni particolari che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione mai risolte e quindi abbiamo adesso attivato l'ufficio in accordo con la società che gestisce la pubblica illuminazione proprio per fare un intervento in collaborazione con le distribuzioni per risolvere questo problema di questa linea aerea che al passaggio delle imbarcazioni toglie la corrente al quartiere e quindi lo andremo finalmente a risolvere Quando si fanno incontri per la complanare Marotta-Tombaccia si invitano per primo i sindaci interessati e poi il comitato Fano Sud che pensa solo a Metauriglia e così sindaco? No, in realtà io sono stato chiamato dal comitato Fano Sud per partecipare è un comitato attivo che cerca di fare gli interessi sicuramente del quartiere di chi abita a Metauriglia Tombaccia e insomma Fano Sud però hanno sempre invitato tutti i sindaci ecco hanno fatto un giro di incontri un po' con tutti i territori anzi devo ringraziare questi cittadini che si attivano e cercano di sollecitare le istituzioni per risolvere i problemi Ritorno un attimo in zona mare i progetti per le scogliere il progetto delle scogliere adesso c'è l'abbiamo approvato in giunta è un progetto finalmente come comune di Mondolfo abbiamo il progetto sull'intero litorale sull'intera linea di costa lo presenteremo nel prossimo mese con i bagnini anche qui abbiamo fatto fare un progetto concentrandoci anche sulle zone che presentano maggiore criticità perché ci saranno diversi finanziamenti in futuro anche per quanto riguarda la difesa della costa ed era importante che il comune avviasse una progettazione che non c'è mai stata fino adesso invece adesso avremo il progetto su tutta la linea di costa e preliminare e un progetto in stato più avanzato per le zone quindi che presentano maggiore criticità Sindaco abbiamo ancora poco tempo a disposizione ma tantissimi messaggi quindi proviamo a fare un botte risposta intanto le segnalano via San Pasquale che è da asfaltare per andare anche verso il cimitero e quindi è piena di buche pure stretta poi le chiedono se ha informazioni sulla chiesa della Madonna delle Grotte ci sono dei lavori in corso che devono iniziare ma la proprietà è della parrocchia e sapevo che stanno per avviare dei lavori molto molto importanti che però non renderanno accessibile la chiesa per diverso tempo adesso su quello dobbiamo insomma confrontarci con la parrocchia essendo residente a San Sebastiano volevo indicare come lungo la strada che va dal convento di San Sebastiano centocroci e mezzi vanno ad alta velocità mettendo a rischio anche l'incolumità dei passanti e quindi identico discorso per la strada parallela quella indicata necessitano quindi dei sistemi di controllo della velocità se si può fare qualcosa distrosore autovelox sì quello penso che fa riferimento al cittadino a Viale dell'Industria che è sempre stata una via molto molto pericolosa ed è anche per questo che nel 2017 abbiamo realizzato quel percorso ciclopedonale che mette in sicurezza rialzato che mette in sicurezza pedoni e ciclisti però ecco cercheremo di fare di più per controllare e ridurre la velocità delle macchine allora propongono di nuovo di mettere cestini per le dedizioni dei cani nel percorso dei tuffi e anche nella discesa verso il santuario della Madonna delle Grotte abbiamo anche delle foto con dei sacchettini insomma gettati come se nulla fosse nei prossimi mesi aumenteremo il numero dei cestini nel territorio comunale e li posizioneremo in base alle richieste alcune adesso mi vengono in mente alcune richieste che abbiamo avuto nella pista ciclopedonale piano marina marotta centro e quindi anche lì verranno posizionati nuovi cestini anche su altre zone del territorio allora in tanti devo dire ci hanno chiesto informazioni per quanto riguarda gli eventi sono tanti messaggi faccio difficoltà a ricercarli tutti in questo momento ne vado a leggere uno mondolfo galleria senza soffitto natale più bello nel borgo più bello sinestesia festival musei civici con orari prolungati grazie sindaco per il lavoro condotto insieme alle associazioni che ha visto tanto movimento turistico vuole in pentola già qualcosa per la prossima estate stiamo cercando di organizzare una mostra che dovrebbe avere rilevanza nazionale adesso ci stiamo organizzando e speriamo di riuscire a portarla insomma qui a Mondolfo insieme in collaborazione con Proarte Mondolfo e con Filippo Sorcinelli che si stanno impegnando tantissimo per rilanciare dal punto di vista culturale il nostro territorio e adesso vedremo insomma quelle che sono le misure che arriveranno dal governo ecco siamo insomma legati a quelle che saranno le misure restrittive nei prossimi mesi quindi ragioniamo di settimana in settimana anche se l'ufficio turismo e l'ufficio cultura sono pronti per l'organizzazione di iniziative sempre guardando l'aspetto della sicurezza a proposito di risorse dal Ministero dell'Interno è arrivato oltre 1 milione 300 mila euro in che cosa andranno andranno spese eccolo qua abbiamo ottenuto 7 milioni questo complessivamente quindi qui la vita è molto migliorata l'assessore Andreoni aveva fatto un attimo un bilancio il finanziamento per i lavori di sistemazione idraulica la protezione dell'ambitato di Marotta Nord nel mandato abbiamo ottenuto oltre 7 milioni di euro e questo è molto importante per il territorio abbiamo cambiato il modo di lavorare anche degli uffici comunali preparandoli appunto alla progettazione e alla partecipazione dei bandi questo è un altro finanziamento fondamentale per la comunità perché riguarda lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord alcuni interventi li abbiamo già realizzati su Piazza Le Ricci su via Cardarelli all'altezza del Sottopasso delle Rane però questo è un intervento un finanziamento che ci permette di fare un intervento importante un nuovo scarico a mare su via Corfu e interventi sulle vie limitrofe quindi via Rovani via Ferrari via Vetti via Martini e permetterà da un lato di ridurre il rischio allagamenti sul quartiere e poi permetterà anche la separazione delle acque nere dalle acque bianche quindi le acque bianche scaricheranno a mare mentre le acque nere verranno convogliate al depuratore sempre sulla separazione acque nere acque bianche assieme al Consorzio di Bonifica al Comune di Fano e ad Aset stiamo portando avanti un progetto che presenteremo a breve per migliorare appunto la funzionalità degli scarichi a mare migliorare la qualità delle acque e quindi per l'ottenimento anche della bandiera blu Buonasera Sindaco ringrazio anticipamente perché insomma vedere anche la volontà del Comune di intervenire finalmente nei lavori per Marotta Sud è una buona cosa abbandonata negli anni anche i mosaici sono bellissimi e rivalutano tanto la nostra zona che ha subito anche penalizzazioni negli ultimi 15 anni in programma qualcosa di simile insomma mosaici in altre zone sempre del lungomare o anche sì sì mosaici continuano in collaborazione con l'associazione chiaroscuro che ringraziamo perché queste volontarie sono sono instancabili e stanno portando avanti dei progetti bellissimi stanno dando al nostro lungomare un'immagine particolare unica penso in tutta Italia e quindi li ringraziamo continueranno quindi continueranno sui muretti la volontà è quella di realizzare i mosaici su tutta la linea di costa di Marotta e quindi ecco anzi se ci sono altri volontari che vogliono aggiungersi e dare una mano sono ben accetti per la viale dell'artigianato a Mondolfo sono previsti dei lavori di illuminazione pubblica e la realizzazione di un marciapiede allora viale dell'artigianato è una strada provinciale e al momento non sono previsti interventi dei marciapiedi di realizzazione dei marciapiedi però stiamo progettando un impianto di illuminazione pubblica perché su tra via all'incrocio con via del Buzzo e con via Fausto Coppi ci sono delle abitazioni dei passi privati e lì la strada non è illuminata quindi vorremmo almeno arrivare fino all'incrocio con via del Buzzo con l'illuminazione pubblica però sull'illuminazione pubblica abbiamo in questo momento altri interventi in programma questo è l'intervento che abbiamo fatto su via Cesanense per caso c'è anche via Luigi in licale chiedono in programma sempre per quanto riguarda le illuminazioni al momento non sono in programma in programma quella di viale dell'artigianato ma non adesso adesso si faranno due interventi uno su viale Carducci dove la linea elettrica è assolutamente da sostituire dove ci sono delle sfere molto vecchie c'è pericolo per quanto riguarda la sicurezza e quindi bisogna assolutamente intervenire siccome l'investimento è importante interveremo su metavia e poi vorremmo anche riqualificare l'impianto di pubblica illuminazione nel lungomare di Marotta Nord dove abbiamo fatto una bellissima ciclabile e vorremmo illuminarla di più con il led ci scrivono delle studentesse universitarie e volevano sapere se verrà mai aperta un'aula studio anche a Marotta l'aula studio è una richiesta che è arrivata e che avevo seguito anche come consigliere comunale di minoranza noi siamo in attesa c'è la necessità intanto di questo servizio siamo in attesa della delibera della giunta regionale per il passaggio degli immobili di via Ferrari e dell'ex scuola di via Damiano Chiesa dal comune di Fano al comune di Mondolfo seguito dell'unificazione di Marotta perché quelli sono degli spazi della comunità di Marotta che sono molto importanti che attualmente sono abbandonati in disuso e noi quelli vorremmo riqualificarli per ridarli alla comunità sopra all'immobile di via Ferrari nel primo piano c'è un'ex sala della circoscrizione e lì c'era un centro d'aggregazione ci piacerebbe lì realizzare una mediateca sala lettura un'aula insomma studio per i ragazzi e che possa essere collegata alla biblioteca comunale di Mondolfo quindi vorremmo appunto portare avanti questo questo obiettivo se insomma le delibere ce lo permetteranno allora ho ritrovato intanto sindaco il messaggio che ci aveva inviato precisamente Adriano da Cerasa e chiedeva per le feste gastronomiche spaghetti a Mondolfo garagoi a Marotta insomma purtroppo sono degli eventi difficili anche da organizzare perché potrebbero crearsi degli assembramenti però perché no magari distanziati all'aperto una formula diversa purtroppo c'è voglia di ritornare un po' la normalità sì sono feste che venivano organizzate ad aprile quindi questo è il mese delle sagre come la spaghettata ai garagoi purtroppo siamo stati costretti assieme alle associazioni che le organizzano di solito a rinviarle però ecco ci mancano molto anche quelle di di San Costanzo visto che il signore dice rasa insomma ci sono delle sagre importanti anche lì che è bello partecipare chiedono se è possibile riavere l'apertura della ludoteca naturalmente con tutte le precauzioni covid sì sulla ludoteca comunale siamo ecco in costante contatto anche con con l'ufficio comunale guardando quelle che sono le misure abbiamo fatto diversi interventi che online diverse iniziative online grazie alla attricia caselli e a tutto l'ufficio delle politiche giovanili che ha portato avanti e sta portando avanti delle belle iniziative online non sono uguali purtroppo come quelle in presenza però sono partecipate e purtroppo dobbiamo adeguarci mi dispiace per tutti coloro che hanno inviato dei messaggi purtroppo non faccio in tempo a leggerli però vorrei chiudere con questo un grande sindaco e una grande squadra complimenti per il vostro impegno e passione per migliorare il nostro territorio sindaco io la ringrazio per essere stato con noi grazie grazie a voi per questa opportunità grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno inviato davvero tantissimi messaggi vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 con il commento alla stampa buona serata a tutti